Ciao a tutti ragazzi, sono METALBET e oggi siamo con la mia ragazza. Ciao a tutti! Nella... credo si chiama così, ma non ne sono sicuro, non so nemmeno se ha un nome tuttora, che è la Pokémon Kray Challenge, ovvero la sfida in cui Silvia farà partire un verso a caso di Pokémon di tutte le generazioni. Io avrò tre tentative, tre indizi, ovvero tipo, lettera iniziale e breve descrizione del Pokémon per indovinare appunto a che Pokémon appartiene. Quando vuoi. Dato che non sapremo quante cose atteccheremo o meno, vi prego che se niente vi scrivano nei commenti. Ah, un'altra cosa, io ho provato ad addestrarla e è andata male, appunto perché è andata male anche lei avrei avuto tu. No. Sì? No. Sì? No. Comincia. Io non faccio. Comincia! Comincia! Forza gomme, ripeto. L'oste? No. Vivo? Coco, malate. Ciao, risalto. Ok. Sono malato, chi se ne fei? Vidri? Sì. Yeee! Sì, 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 sì. Togiti? No. Censi? No. Iniziale? Cigo. E non è Censi? È tipo colletto. Censi. Descrizione. È una farpa da cicciola. È una farfalla cicciola. Sì. Bell'indizio del sorpo. No, vabbè, dimmi tu. Ti fai do. Non è una farfalla! È una farfalla cicciola, perché canali. Non è, non... Anche ne aprono le ali, gli palchi hanno le ali, non sono farfalle. Anche gli uccini hanno le ali, ah no. Gli palchi hanno le uccine, non è. Ah no. Ah no. Vai. Io ti odio. Io no, vai. Sì. Sì. Sìììììììììì. Vai. Vai, vai, vai. Eh. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ripeti pifo psicofolletto iniziale m mr mine si yeah pifo roccia acqua roccia acqua roccia acqua esiste anche nella prima generazione si iniziale crembi punto descrizione la cimice con gli artigli la cimice con gli artigli cazzo vuol dire la cimice con gli artigli caputops la cimice la cimice con gli artigli la cimice la cimice la cimice oh la cimice 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 cimice pittà due Giù di un luogo Sì, sì. Sì, sì. Xatur? No. Natur? No. Tipo acqua volante. Sembra che ha visto una lona. Eh? Non sembra che ha visto la Madonna. Acqua volante. Iniziale? M. Mantai? Yeah. Diventa sempre che volante, mantai. Eh? Non vai a rispegnare. Ok. Ma vi sono detto spegni. Spengi. Eh? Ripeti? Non tanto? No. Ah, la sopra. Lo so che c'è sopra un tag. La mucca più piccola. La mucca più piccola? Che cazzo vuol dire? La mucca più piccola che ha fatto la cotonatura. È tipo fuoco. M. Megui? Sì. È una mucca, Megui? È senza mammelle, forse a manzo. È una mucca, Megui? No. Non ci vediamo. No. 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 l'ombre chiesto una roba una roba ok, iniziale M qual'altro volante? mascherine si è volante, non acqua vabbè comunque l'ho zaccato, vai come si, Wismore trappic scramble l'otta psico l'otta psico esistono? come vuol dire, ah no è una scimmia è una scimmia è una scimmia blu con il viso color avorio color avorio non puoi dare descrizioni cazzo perché? è una scimmia blu con la faccia color avorio si è così ecco ok non hai fatto meravigliosi i miei 50 colori iscritti vai non hai fatto meravigliosi non hai fatto meravigliosi non hai fatto meravigliosi scusi è male mi chiede eh si ok non lo so è un ossetto un po' coglionito tutti spinta si questo cazzo non varia come tentativa eh 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 Z Z Z Z Sì la descrizione è un gatto con un taglio rosso e le zampe da Wolverine rock non hai visto Xperia? Wolverine comunque si sembra conosco ma che cazzo volevo dire questa descrizione allora vuoi che ti radicchere molto più più dettagli possibile a fine che ne indovini? no ciao però è un gatto gigante con un fungine sul petto rosso le tampine rosse un'orecchia rossa e di una fine mi sembra ancora di Wolverine non esiste non esiste? si che esiste credo è un coniglio è un coniglio è un coniglio è un gatto è un coniglio boh dipende per me è un gatto per me è un coniglio un coniglio è un coniglio si è un coniglio è un coniglio è un coniglio ma come un solelluna non è un coniglio vuoi farlo lì? si, farlo lì è un coniglio è un coniglio sono vivo sono vivo vivo? ghiaccio acqua eh Wolverine si 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 eh ah si 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 eh chi dice tutto? si ok sta andando bene si si eh chi vuoi? cerba iniziale? si vuoi? vuoi le tiglieze? eh cerubi ok maggiore ragazzi si 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 il ti ti si ti ti quanto ti ti mi Magmortar Che è questa roba? Tango Vicky Vicky Iniziale Tipo? Viaccio Mammoth Wine Perchè? Voglio panettone L'unica paritone senza moglie Senza ori E di nata Vicky Dossio Un po' più bellissimo Ehm Dustwar Siiii Vicky E più Sexy Perfetto Hydra Si Adesso io sono di un mineratoio assurdo Ehm 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 Tipo? Buona colotta E' uno starter Ehm L'ultima Luzione Perfetto 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 Devo dirlo? Si Perfetto 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 No Perfetto Lo faccio schifo Che se ne prega Ti sarà divertente Eh Folder Si Ok Quelle E' quello del gergerale Che c'è Senta dei pallini Vai Però si Eh Però si No Iniziale Si Pi 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 C'è Acqua terra guardami guardami il mio viso basta va più bruci non mica voluti internet pausa pausa pd ecco erba folletto erba folletto ottoni io si che vediamo leggevo val che è sta roba terra a buio si 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 eh dai qui eh acqua roccia bo è una tappa Luca un pettino diciamo caracosta nooo 4 5 4 altra che me la gioia tipo buio 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 forse è buio è una buio è il segno di catastrofi te l'ho detto te l'ho detto tante volte cosa avevo messo a dire cosa avevo messo a dire habsol oh bravo per lei gli indizi sono infiniti se no non ciò ti prego male ahahah sono ignorante sono cretina e questo e non l'appulcio è una spada e uno scuro quindi a l'inizio l'inizio all'inizio l'inizio l'interno l'interno l'inizio ai Eddie doing num lo dell'interno della skin red del con l'energetica a me a me a me di calma pure è da svolto tipo alla kazan perché alla kazan ma cocate tutto a te altaria cattone agliaccio posti dell'ultima generazione amorfis amanite amaura amaura secondo te cos'è sta cosa? un gatto è un spungo è un spungo amore amul amung amung amungus amungus è un caro no 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 ponta ar 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 arca 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 nines sì prima ho visto la madonna ma non era la madonna era questo poteco arca 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 l'accia volante può essere di bianco e nero arc Amo ar, sta cazzo di ar Arche Archeo Archeotipo Archeops Archeotipo home Archeotipo Arti Articuno Si Articulo Ax Axel Axi Accidente Tipo drago Axio Aspetta dai come ho visto su un cazzo Normale polletto Ma che sembra più tipo acqua Ma ina gioia Rimbalza sulla sfera che sembra essere il suo culo Un po' Ssh Ssh Non dico neanche Asomaril Prima Maril Prima Azomaril Azzuril 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 Troppo buona Ok Anche Cucigiu 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 oro e argento che è lo starter di tipo erba di ore e argento belli nonostante sicurità pro carita poi ultimo ultimo se lo voglio fare il possibile se lo cerco guarda grazie mille ben giornata da un po che muovo un po che muovo la faccia faccia nascondi il telefono perché altrimenti riesco dietro inoltre potrebbe essere o faccio il possibile ma è lo tic sono stronti che faccio il possibile ok grazie benedico ci voglio pensare su capite l'ultimo piano per forza e da 7 minuti sta battendo a scuola allora ciao 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 a ipo e basta iniziale le azioni qui a odo 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 ax 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 qual è il tratto in comune tra i nostri cognomi s quindi axelus axelus è difficile da dire e questo video può decisamente finire qua dire che ci vediamo alla prossima puntata e ricordatevi come al solito vi dovete spaventare nulla vediamo alla prossima ciao a tutti alla prossima altro squallore